Prosegue a ritmo spedito la campagna vaccinale in provincia di Arezzo. Ad oggi sono ben 90.174 le persone che si sono sottoposte alla prima dose del siero anti-covid, quasi 5.000 dosi in più rispetto a quattro giorni fa. Per quanto riguarda i richiami, sono invece 42.647 gli erettini che hanno ricevuto la seconda dose e completato quindi il ciclo vaccinale. Lo scorso venerdì erano 37.369. Cresce poi anche il numero dei settantenni che si sono sottoposti alla prima dose. Sono infatti 24.016, lo scorso venerdì erano 21.878. Per quanto riguarda i soggetti vulnerabili per patologia, in 15.847 hanno fatto un'iniezione, 6.093 anche in richiamo. Quasi raddoppiate invece le somministrazioni ai caregiver familiari che sono passate da 1.745 a 2.845. Infine il dato sui prodotti impiegati. Il Pfizer è stato utilizzato 90.178 volte di queste 36.869 per il richiamo. Del Moderna la prima dose è stata somministrata a 8.050 erettini, mentre in 4.603 hanno ricevuto anche il richiamo. Sono poi 28.262 le dosi di AstraZeneca utilizzate, comprese le 1.775 per completare il ciclo vaccinale. Salgono infine a 1.728 gli erettini vaccinati con Johnson & Johnson che non necessita della seconda iniezione. Salgono infine a 1.728